Sicuramente affrontavamo una squadra organizzata che ha fatto vedere in questo campionato che se la può giocare contro tutti ma dalla parte nostra oggi ha affrontato un Arezzo cinico e sicuramente voglioso di fare risultato perché vogliamo fare un campionato di vertice e ritagliarci un ruolo da protagonisti. Ci godiamo questa vittoria e poi ci prepariamo bene per la prossima. Sono contento di dare il mio contributo alla squadra e poi man mano è chiaro che uno gioca acquisti sempre più condizione ma sono contento per la squadra perché ce lo meritiamo e siamo davvero un bel gruppo e quindi possiamo ritagliarci delle soddisfazioni importanti.